Un giorno importante per la nostra provincia, si inizia a vaccinare nei luoghi di lavoro. È un giorno importantissimo perché ci permette di proseguire questa campagna vaccinale che è fondamentale per mettere in sicurezza il territorio e tutta la nostra regione. Questa struttura ha aderito alla manifestazione di interesse di Regione Liguria e oggi abbiamo iniziato a vaccinare qui, che è un hub aziendale, poi con la collaborazione di Confindustria presso la nostra sede Ex Fitran di La Spezia e domani presso la sede di Sarzana. È fondamentale perché permette di fare un ulteriore passo avanti nella protezione del territorio. Questa settimana Liguria è entrata in zona bianca per riprendersi passo dopo passo la nostra vita, tra virgolette, normale. Serve prudenza ma anche coraggio? Serve molta, moltissima prudenza perché il vaccino sicuramente ha aiutato moltissimo nella riduzione di tutti i ricoveri sia in media intensità che in alta intensità. Però è fondamentale ancora mantenere le precauzioni, l'uso della mascherina sempre al chiuso, l'uso della mascherina sempre all'aperto quando si è vicino ad altre persone, si può la mascherina oggettivamente levare soltanto quando si è all'aperto soli in questo momento, l'igiene delle mani e il distanziamento fisico. Ricordo, mi permetto di ricordare ai genitori che sono disponibili ancora posti per le prenotazioni dai 12 ai 17 anni, quindi per soggetti minorenni e invito veramente tutti a farlo per aprire in sicurezza il nuovo anno scolastico a settembre. E inoltre, siccome da lunedì iniziano concretamente le vaccinazioni dei soggetti minorenni a Fitran, alla spezia sarzana, è fondamentale che i ragazzi vengano accompagnati dai genitori oppure da un genitore con la delega dell'altro per poter firmare il consenso, altrimenti non è possibile la vaccinazione.